Buon risveglio ai nostri telespettatori con l'informazione sulla nuova tv. Voi le vedete alle mie spalle, ci sono i quotidiani locali e nazionali, si scorge la parola Italia, c'è in primo piano l'impresa dei nostri azzurri agli europei, ci occuperemo anche di questo ma focalizzeremo l'attenzione naturalmente sulla cronaca lucana andando ad approfondire i temi trattati in questo sabato 12 giugno. Cominciamo proprio con l'emergenza, coronavirus e quanto sta succedendo in Italia così con le ripercussioni che ci sono in Basilicata per quanto attiene la campagna vaccinale. Lo facciamo avvalendoci di un servizio che è stato realizzato dalla redazione della nuova Tg. Vediamo. Di certo non si sono registrate le presenze delle altre quattro giornate, flussi e intermittenza già nella mattinata quando nella stessa fascia oraria, il giorno prima, erano stati almeno il doppio i ragazzi in fila all'ingresso della struttura. Nel pomeriggio addirittura quasi nulle le adesioni. Nel penultimo appuntamento con gli open day Johnson & Johnson riservato esclusivamente ai maturandi di Potenza e Provincia sono stati quindi meno del previsto gli studenti che hanno riempito la palestra di Via Roma. Ne erano attesi quasi 700 ma contrariamente alle aspettative le vaccinazioni sono state anche meno della metà. Per ore le attività si sono praticamente fermate a causa della scarsa partecipazione. Probabile che a influire sul crollo delle presenze dei 18 anni Lucani sia stata la tragica notizia diffusa giovedì sera, quella della morte di una ragazza a Genova che a fine maggio era stata immunizzata con il vaccino AstraZeneca. Soffriva, si scoprirà nelle ore successive, di una patologia autoimmune. Una serie di eventi che ha spinto già sette regioni a sospendere le somministrazioni di AstraZeneca ai ragazzi. Anche delle dosi Janssen perché immunizzante, come è noto, al pari del preparato anglo-svedese a vettore virale raccomandato ai soggetti over 60. Il CTS intanto ha deciso stop agli AstraZeneca, compresi i richiami agli under 60. Avanti invece con Pfizer e Moderna. Intanto sono 52 gli ultimi Lucani trovati positivi al Covid, a fronte di 688 tamponi con un tasso di positività che schizza al 7,5%. A incidere sono soprattutto gli esiti dello screening eseguito a Bella, dopo il fuocolaio scoppiato nei giorni scorsi, riconducibile a quanto sarebbe accaduto nelle scorse due settimane, caratterizzate in paese soprattutto dalle cerimonie tenutesi in due distinte domeniche delle prime comunioni. Guarite in tutta la regione anche 55 persone, calano a 38 ricoverati negli ospedali, 2.970 i casi attivi. Resta inferiore a 50, infine l'incidenza settimanale dei casi, Basilicata in zona bianca, ma dal 21 giugno. Bene, ci spostiamo in edicola, andiamo a leggere la prima pagina della Nuova del Sud. Ecco in primo piano la notizia che abbiamo appena trattato, no ad AstraZeneca, ai giovani ed è psicosi. Vediamo che cosa ci dice la Nuova. Pochissimi maturandi che ieri si sono vaccinati a Potenza, ma nessun veto su Johnson & Johnson da parte del CTS. Oggi si conclude, si allarga il fuocolaio di Bella, il tasso di positività schizza al 7,5, ma l'incidenza settimanale dei casi resta a bassa, zona bianca ad un passo. Andiamo a leggere nel taglio alto ancora la notizia che la Nuova del Sud sta trattando in modo approfondito sul suo quotidiano. La bolla di acqua è scoppiata, noi lo dicevamo da 15 anni e qui l'acqua si paga 120 euro. Chi è che lo dice? Tariffe polemiche. Parla il sindaco dell'Unione Comune e Gestione Autonoma e il sindaco di Rotonda con le sue sorgenti e i suoi serbatoi esiste un sistema forfettario che fa pagare cifre ridotte rispetto ai centri limitrofi. Acquedotto Lucano è un carrozzone. Il vero problema è la riscossione dei crediti, i troppi murosi e gli elevati costi di gestione. E per chiunque voglia approfondire questa notizia lo può fare andando a vedere sul nostro palinzesto l'appuntamento con il meglio di prima notizia dove il sindaco di Rotonda è intervenuto. E poi ancora andiamo a leggere le altre notizie, quelle di spalla all'apertura della Nuova del Sud. I concorsi per nefrologi rinviati in attesa che si specializzasse la figlia di qualcuno. Leone sbotta e commenta in questo modo il suo intervento durante il consiglio comunale di ieri a Matera aperto e con un unico punto all'ordine del giorno, quello appunto dedicato alla sanità materana con i rischi di depotenziamento per quanto riguarda l'ospedale Madonna delle Grazie. Sebbene durante il consiglio c'è stato l'intervento dell'assessore alla salute Leone che ha spiegato in questo modo scioccante quella che è la situazione per quanto attiene nuovi inserimenti nei reparti che ne richiedono. E poi ancora c'è la cronaca colpito da un palo da Ormeggi, operaio di Maratea perde la vita in un cantiere nautico a Ostia. Questo possiamo dire l'ennesima morte bianca che si registra nel nostro paese e rispetto alla quale c'è stata ieri la rabbia, la reazione dei sindacati che se la prendono con i governi centrali e con il governo centrale e quelli regionali immobili davanti a questo stilicidio sul lavoro. E continuano ad occuparci di lavoro, Stellantis si decide il futuro di Melfi, il 15 giugno l'incontro al Mise tra organizzazioni sindacali e l'azienda e la Will chiede certezze intanto da Confindustria a San Nicola la Gigafactory per le batterie. Poi andremo ad approfondire nelle pagine interne questa che è l'iniziativa promossa da Confindustria che si lega direttamente con la Confederazione degli Industriali della Regione Puglia. Ancora a Matera uno scatto ritenuto indiscreto fa scattare la sanzione per un carabiniere, il Tar respinge il ricorso però. Al via il lavoro a Scansano Ionico della chiesa di Santa Maria annunziata Cariello, la comunità non poteva più fare a meno. E poi c'è lo sport in primo piano, la serie C, Potenza e Presidente Fontana fa un passo indietro. E vedremo poi all'interno che cosa ci racconta la redazione sportiva della Nuova del Sud. Invece in serie D Picerno la Caffre spinge il reclamo bis del Lavello e la classifica resta intatta. Ricordiamo che il Picerno si trova ad un passo dalla vetta a 65 punti con il Taranto, invece capolista a 66 del campionato di calcio di serie D. Andiamo avanti. Eccola qui la pagina dedicata alla campagna vaccinale in Basilicata. I ragazzi disertano l'Open Day, ci dice Michelangelo Russo, poco più di un centinaio di maturandi che ieri si sono vaccinati con J&J a Potenza. La scarsa adesione è legata alla notizia del decesso di una ragazza ligure vaccinata proprio con AstraZeneca. Vediamo nel sommario sospese le somministrazioni del vaccino anglosvedese agli under 60, ma sul parentestretto J&J il CTS non frena, frequenza minore di fenomeni trombotici. Andiamo avanti. Si allarga il focolaio a Bella, questo per quanto attiene la diffusione del Covid-19 in Basilicata. Sale a 39 il numero degli attualmente positivi, i minorenni sono una ventina. La prossima settimana in programma un nuovo screening, intanto la Basilicata vola verso la zona bianca. Incidenza settimanale dei casi in leggero rialzo, ma sempre sotto quota 50, in calo la pressione ospedaliera. E poi ancora il ruolo del sud nel post-pandemia. A Maratea una tre giorni di confronto per colmare il divario con il nord. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Nitti e dall'Associazione Merita, ospiti anche i ministri Franco e Carfagna, il commissario europeo Gentiloni. Questa dunque è un'iniziativa importante che si terrà nella perla del terreno dove noi restiamo. E per trattare un'altra notizia riparte Maratea, se ne discute con i ministri Carfagna e Garavaglia ancora. Andiamo avanti. Eccola qui la notizia della dichiarazione dell'assessore alla salute Rocco Leone. I concorsi per nefrologi. Avevamo trattato questa notizia nei giorni scorsi sulla nuova del sud. C'è carenza di personale con il rischio per quanto attiene la dialisi nei pazienti che richiedono questa prestazione. I pazienti lucani. I rinviati per 30 volte, dice Leone, in attesa che si specializzasse la figlia di qualcuno. Carenza di sanitari nei centri dialisi dopo la denuncia dell'ANED. Qui vediamo la foto di Leone con la foto del presidente dell'ANED, Andresani. Dopo la denuncia di ANED, duro attacco d'accusa dell'assessore Leone sulle procedure concorsuali. Questa dunque è una notizia da leggere sul quotidiano La Nuova del Sud perché è abbastanza particolare. E noi ora ci occupiamo invece della vertenza Stellantis in attesa del tavolo al mese. Convocato dal ministro Giorgetti il 15 giugno, il governo rassicura il monitoraggio costante delle azioni messe in campo dal gruppo. Come evidenziato dal sottosegretario Battistone in risposta all'interpellanza che è stata presentata dal deputato Lucano dei Cinque Stelle, Cillis. Dopo essere stato incalzato da più parti, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha deciso di riunire tutti intorno ad un tavolo. Il tema al centro della discussione in programma il 15 giugno prossimo è il futuro produttivo e la tenuta occupazionale degli stabilimenti Stellantis in Italia. E tra questi c'è quello di San Nicola di Melfi. Il primo faccia a faccia torinese con il nuovo gruppo non ha soddisfatto i sindacati che temono ripercussioni dopo l'annuncio palesato dai vertici aziendali di procedere all'attivazione di un piano di risparmio nella fabbrica lucana. A Melfi si continua a far ricorso alla CIG e la prospettiva appare sia quella di unificare la produzione su una sola linea che tradotto significa riduzione della capacità della fabbrica. Tutto il contrario di quanto è invece previsto nel piano industriale dell'ex FCA, il cui svolgimento è rimasto parziale anche se la società ha potuto far leva su un prestito a garanzia dello Stato di oltre 5 miliardi di euro. Operazione quest'ultima gestita proprio dal Mise a fronte di impegni precisi che la multinazionale avrebbe dovuto rispettare. Accordo che a quanto pare il Governo nazionale tiene a far rispettare come evidenziato dal sottosegretario Francesco Battistoni in risposta all'interrogazione presentata dal deputato lucano del Movimento 5 Stelle Luciano Cillis. Nel suo intervento Cillis ha espresso preoccupazione per le recenti scelte annunciate da Tavares. E altro fatto che ha fatto mettere in dubbio le prospettive future degli stessi dipendenti è stata la scelta di Tavares di portare la produzione di batterie che rappresentano il futuro industriale verso cui tutte le aziende dell'automotive stanno spingendo in Spagna. Lo stabilimento Stellantis di Melfi rappresenta una delle principali realtà produttive del mezzogiorno ed il Governo ha investito sul sito produttivo proprio in considerazione della rilevanza che esso riveste. È necessario monitorare costantemente le scelte riguardanti Stellantis. A tal riguardo si rappresenta che nel corso del 2020 è stata concessa una garanzia sacia per oltre 5,6 miliardi di euro corrispondenti ad una copertura dell'80% del finanziamento richiesto dal gruppo FCA. Come noto la suddetta garanzia è stata concessa subordinatamente al rispetto di specifici impegni l'impegno a non delocalizzare la produzione dei modelli di veicoli oggetto e di industrializzazione nell'ambito del piano, senza ricorso ad ammortizzatori sociali. Ed è proprio in questa direzione che in data 22 aprile scorso è stata annunciata l'istituzione del tavolo permanente sull'automotive. Barisco l'impegno del Governo a proseguire con gli incontri del tavolo, nonché a monitorare con attenzione il rispetto degli impegni assunti dal gruppo Stellantis. E questa notizia la troviamo anche sul quotidiano La Nuova del Sud, c'è una pagina intera dedicata all'avvertenza Stellantis. Stellantis ora si deve fare chiarezza, dice questo quotidiano, fissato per martedì 15 giugno l'incontro al mese tra organizzazioni sindacali e l'azienda. Il Governo rompe gli indugi, i sindacati chiederanno garanzia a lungo termine, la sfida dell'elettrico e nessun licenziamento. E poi ancora, eccolo qui, l'onorevole Cillis, noi l'abbiamo visto durante l'interpellanza alla Camera, i patti vanno rispettati, dice. Impegni da onorare, ma sulla svolta elettrica incombe l'incubo della Spagna, come abbiamo sentito prima. È importante che i Ministeri dello Sviluppo e del Lavoro collaborino per dare certezze ai nostri lavoratori. Dunque, se ne parlerà dopo il 15 giugno, quando ci sarà al mese questo atteso tavolo con Giorgetti, anche il Ministro del Lavoro Orlando. Intanto, però, vediamo che cosa chiede Confindustria. Puglia e Basilicata, alleate, per ospitare uno dei nuovi hub della Idrogen Valley. I presidenti di Confindustria, Somma e Fontana propongono la Gigafactory, delle batterie per automobili, proprio nello stabilimento di Melfi, quando poi abbiamo visto che Tavares la vorrebbe realizzare invece, almeno quella che dovrebbe servire la produzione di Stellantis, la vorrebbe realizzare in Spagna. Questa invece è dunque la proposta di Confindustria, delle Confederazioni degli Industrali di Puglia e di Basilicata. Nel taglio alto, ancora a Tempa Rossa, si blocca un compressore, ennesima fiammata, total, nessuna ricaduta in termini di inquinanti, l'area è rimasta monitorata. E poi continuiamo ad occuparci di lavoro, ma di quello che non funziona in Italia, perché c'è stata una nuova vittima sui luoghi di lavoro, colpito da un palo da Ormeggi, operaio di Maratea, perde la vita in un cantiere nautico, la vittima del tragico incidente, che si è verificato giovedì pomeriggio a Ostia, è il 58enne Biagio e a Ria. E poi ancora continuiamo, eccola qui la pagina dedicata a rincaro delle tariffe dell'acqua in Basilicata. Rosa fa ancora l'oppositore, ma l'aumento della tariffa dell'acqua è firmata dal governo Bardi. e poi Lago Negro non ci sta, l'opposizione è colpa della Regione e del dilascio. La Regione trovi fondi dal bilancio tariffe dell'acqua allevata di scudi anche dal Comune di Lauria. Il capogruppo PD Ricciardi presenta una mozione per dire no ad ogni aumento. E a Potenza c'è stato il direttivo della CGL di Basilicata. Lavoro è un nuovo piano di previdenza sociale al centro degli interventi dei segretari di settore che sono intervenuti ieri al Parc Hotel di Potenza. Sguardo anche alle questioni nazionali con in primo piano lo sblocco dei licenziamenti che vedrà CGL Cisle e Will rispondere con una mobilitazione generale. Rocco Romanelli. Le chance offerte dal piano nazionale di ripartenza e resilienza tra i punti cardine del direttivo della CGL di Basilicata che ad un anno e mezzo di pandemia assume un significato particolare per le questioni poste con prepotenza durante la crisi sanitaria la cui risoluzione passa dalla necessità di programmare percorsi virtuosi che rispondano alla crisi occupazionale soprattutto femminile a cui si lega quella previdenziale. Quest'ultimi aspetti emersi in tutte le relazioni dei segretari delle categorie presenti all'Assemblea che si è svolta al Parc Hotel di Potenza. Sindacato presto in campo per protestare contro la sospensione del blocco dei licenziamenti iniziativa condivisa con le altre sigle confederali e che vedrà la CGL impegnata anche per un piano del lavoro che chiama in causa il governo Lucano. Oggi si è dibattuto di una nostra mobilitazione per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti che scade il 30 giugno ma soprattutto una grande riforma degli ammortizzatori sociali e riforma previdenziale per garantire ai lavoratori italiani in questo momento di crisi una giusta ricollocazione e giusti strumenti di tutela del lavoro. Ma poi soprattutto serve un grande piano per il lavoro nella pubblica amministrazione che negli ultimi 5 anni ha perso circa 600 mila addetti. Abbiamo bisogno di un grande piano di investimento e poi abbiamo anche discusso di quella che è la situazione economica e sociale della nostra regione qui nei prossimi giorni insieme a CISLEWILL presenteremo il nostro piano del lavoro per sfidare il governo regionale in questa fase nuova di grandi opportunità ma in cui serve visione e serve una programmazione che guardi al futuro e guardi alle opportunità del PNRR. La delega alle politiche per il mezzogiorno vede il segretario confederale Massafra al fianco delle realtà sindacali al sud nell'atavico divario tra nord e sud del paese. Siamo in un momento delicatissimo per il paese ancora impegnati a fronteggiare una crisi sanitaria che ha prodotto un notevole peggioramento delle condizioni sociali ed economiche del paese che però può rappresentare una grande opportunità di cambiamento e questa opportunità di cambiamento noi vogliamo dare il nostro contributo per riprogettare il paese per garantire una ripartenza che ovviamente va misurata su due aspetti il primo è quello di costruire le condizioni per far ripartire un'occupazione ma un'occupazione che sia di qualità l'altra questione invece rappresenta il superamento di una delle più grandi forme di disuguaglianza che la crisi rischia di mettere ancora più in evidenza e cioè il divario nord-sud del paese la ripresa si misura se questo divario è colmato e se riusciamo a costruire le condizioni perché il mezzogiorno possa diventare davvero anche attraverso gli investimenti previsti sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista delle politiche sociali una leva fondamentale per lo sviluppo dell'intero paese e al sud le aree industriali hanno a che fare anche con il pagamento delle tariffe dell'acqua che per quanto attiene la Basilicata restano in forte aumento ne ha discusso Celestino Benedetto ieri durante prima notizia con il sindaco di Rotonda dove la situazione è totalmente diversa andiamo a leggere perché la bolla di acqua è scoppiata oggi ma l'avevamo capito 15 anni fa e l'acqua si paga 120 euro l'anno e poi ancora Rotonda è l'unico comune in Basilicata dopo anni di battaglia che gestisce la risorsa idrica in piena autonomia un sistema forfettario che fa pagare cifre ridotte rispetto ai centri limitrofi questo dunque è l'intervento del sindaco di Rotonda durante la nostra trasmissione di approfondimento della cronaca prima notizia di cui vi ripeto acquistando la nuova del sud troverete il nostro palinzesso c'è la messa in onda di numerose repliche del meglio di quello che è stato mandato in onda durante la settimana passiamo allo sport vediamo Fontana fa un passo indietro l'ormai ex vicepresidente del Potenza Calcio lascia il suo 15% relativo alle quote del club deluso da Caiata mi faccio da parte per il bene della mia squadra del cuore le scadenze si avvicinano dunque la querelle che c'era stata tra il patron del Potenza Calcio Caiata e il vicepresidente Fontana avevano bloccato un po' tutte le procedure che era necessario portare avanti per l'escrizione del Potenza al campionato di Serie C invece in Serie D vediamo che cosa succede esorcizzato l'ultimo fantasma Picerno respinto il ricorso bis dell'Avello in merito all'omologazione del Mancinelli di titolo la classifica rimane intatta Melandrini a meno uno dal primo posto a 90 minuti dal termine della stagione ricordiamo il Picerno dovrà affrontare domani al Curcio che apre per la prima volta le porte ai tifosi naturalmente gli ingressi sono contingentati per il match l'ultimo match di campionato con il Gravina e poi passiamo prima di passare a leggere i titoli dei quotidiani regionali degli altri quotidiani lucani vediamo quali sono le previsioni meteo di questo weekend Sì cari amici ed amiche della Nuova TV una buona mattinata a voi tutti rieccoci qui con il consueto appuntamento con le previsioni del tempo tempo che negli ultimi giorni si è mostrato capriccioso durante le ore pomeridiane sulla nostra regione come ampiamente previsto da noi staff di Meteosette per la presenza di un nucleo di aria fresca in quota che ha fatto da carburante per la formazione di forti temporali pomeridiani nelle zone interne della nostra regione anche nel pomeriggio di ieri venerdì 11 si sono verificati forti temporali soprattutto sulla parte meridionale della regione zona del Senisese e bassa Valdagri si sono verificati forti rovesci temporaleschi con anche delle grandinate ma fenomeni hanno interessato anche il materano meridionale per quanto riguarda la giornata di oggi sabato 12 giugno avremo una giornata fotocopia rispetto ad ieri con cielo sereno poco nuvoloso durante le prime ore della giornata poi già nel corso della tarda mattinata tenderanno a svilupparsi addensamenti cumuliformi nelle zone interne addensamenti cumuliformi che nel pomeriggio sfoceranno in rovesci e temporali ancora una volta soprattutto sulla parte centro-medidionale della regione e i fenomeni più forti probabilmente si verificheranno a confine con il Vallo di Diano quindi zona della bassa Valdagri zona del Senisese zona del Lago Negrese e anche a confine con la Calabria infatti anche zone del Pollino saranno interessati da fenomeni sparsi quindi rovesci e temporali pomeridiane poi i fenomeni ovviamente entro la prima parte della serata tenderanno ad esaurirsi e quindi il cielo ritornerà poco nuvoloso anche nelle zone interessate dai fenomeni per quanto riguarda le temperature stazionarie 13 gradi la minima su potenza 15-16 gradi su Matera per quanto riguarda le massime 23-24 gradi sul capoluogo 25-26 gradi su Matera i 20 di direzione variabile Mari poco mosso il Tirreno poco mosso l'Oionio per quanto riguarda il tempo nei prossimi giorni avremo come già accennato un rinforzo dell'anticiclone nordafricano ad inizio settimana quindi un aumento della pressione anche in quota e quindi una inibizione alla formazione di attenzamenti cumuliformi quindi un ritorno di condizioni di bel tempo anche sulla nostra regione inizio settimana con il caldo che poi tenderà gradualmente ad aumentare soprattutto dalla metà della settimana prossima ovviamente su questo ci riagioneremo per il momento io mi fermo qui un saluto da Davide Di Santo e dallo staff di Meteoset punto it e grazie ai nostri amici di Meteoset per questo contributo la gazzetta di Basilicata pannelli solari su tutti i tetti le comunità energetiche e gli ambientalisti alla regione con il recovery si cambia strada e poi ancora nella spalla tutti in vacanza con il treno in Basilicata ferrovie l'assessore Merra illustra i dettagli del piano a centropagina potenza selezionato il progetto di restauro del Ponte Musmeci Ponte Musmeci alla Spagnola e poi nel taglio basso ancora andiamo a leggere debiti fuori bilancio riconosciuti 40 milioni questo per quanto attiene la regione miglionico orgogliosi della prima unione civile e poi c'è il Matera Festival 2021 dalla lirica al tango nuovo e poi invece sul quotidiano ancora l'apertura dedicata all'emergenza coronavirus e alla campagna vaccinale Basilicata in zona bianca dal 21 bella un focolaio con 23 contagi casi positivi in lieve risalita ma ancora sotto la soglia di rischio contesa delle dosi Laurielago Negro Piro polemica elettorale stop vaccinazione più giovani Bardi se la prende con Roma abbiamo rispettato le indicazioni ora si faccia chiarezza definitiva Matera Sanità scandalosa non ci sono ancora date per esami e visite anche urgenti scrive il quotidiano una vergogna documento del Consiglio Comunale ASM incapace di ripartire e prima di andare a leggere quali sono i titoli sui quotidiani nazionali minuto di pubblicità ci vediamo subito dopo Cosil in Auto concessionari Alfa Romeo e Jeep oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a sala consiglina e potenza assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali Cosil in Auto unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata da Cosil in Auto ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet Click Car e Select for You Non andare oltre la tua auto ti aspetta qui A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni scelte fiducia una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro e non importa di quanti capitoli sarà perché basta essere scritta con passione curando ogni dettaglio per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani 1, 2, 3, 4 Vui da BMW Serie 1 M Sport anche senza acquistarla con un leasing Wi-Fi da 160 euro al mese dal 1,90 TAEG 408 e dopo un anno sei libero di rifinanziarla cambiarla o restituirla eccoci rientrati in studio sguardo veloce quotidiani nazionali noi cominciamo con quelli sportivi per continuare a gioire della vittoria dell'Italia ieri agli europei festa all'olimpico partenza col botto turchi travolti azzurri show al debutto dominano e nella ripresa si scatena il tridente Berardi il migliore in campo immobile e insegne segnano dopo l'autogol di Demira allora studiano Svizzera e Galles e poi ci sono i due interventi la notte che meritavamo di Andrea Di Caro il capolavoro del mancio di Claudio Ranieri noi leggiamo anche il corriere dello sport viva l'Italia questo il titolo splendido il debutto travolta la Turchia 3 a 0 mercoledì tocca alla Svizzera europei gli azzurri partono alla grande tra gli applausi dell'olimpico e poi c'è il basket dopo 20 anni scudetto alla Virtus Bologna 4 a 0 all'olimpia dunque una partita ieri tesissima per il finale del campionato nazionale di basket sul Corriere della Sera così come vedremo anche sugli altri quotidiani nazionali l'apertura è tutta dedicata alla campagna vaccinale con lo stop al vaccino AstraZeneca vaccini rivista la campagna ha deciso lo stop di AstraZeneca agli under 60 ora si cercano dosi diverse per i richiami Camilla morta dopo l'iniezione soffriva di piastronopenia non lo aveva scritto sulla scheda del triage agli Open Day è ancora Repubblica stesso stesso taglio il taglio di AstraZeneca il ministro Speranza blocca la somministrazione del vaccino agli under 60 fermati anche gli Open Day decisione del Premier dopo il caso della 18enne morta a Genova Mantovani giusto avere però delle dosi alternative il fatto quotidiano come al solito polemico nei confronti del governo centrale Figliuolo s'arrende dice ora fuori i numeri AstraZeneca solo over 60 Speranza e CTS che noi vediamo nell'immagine durante la conferenza stampa di ieri fermano gli Open Day danni al piano vaccini dice il fatto quotidiano e niente dati su quanti hanno avuto questa AstraZeneca e poi ancora su avvenire stessa apertura vaccini si cambia AstraZeneca sopra i 60 anni sotto anche il richiamo sarà di un altro tipo ma in Z Italia diventa bianca da lunedì cadono le restrizioni per 40 milioni il giornale titolo ironico basta Zeneca dice il CTS blocca AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni scontro governo regioni sulle responsabilità del caos e anche il nostro presidente della regione Vito Bardi lo ricordiamo ieri era intervenuto con un tweet prendendosela proprio con il governo regionale specificando che comunque in Basilicata gli Open Day sono stati dedicati alla fascia 60-79 anni sulla stampa ancora AstraZeneca salta il piano dei vaccini e invece sul giornale economico il sole 24 ore borsa oltre metà delle quotate già oltre il pre-Covid per ricavi e valore quindi dunque questa una buona notizia per quanto attiene la ripresa dell'economia nel mondo e Banca Italia ci dice anche che il PIL nel 2021 sarà più 5% il PNRR vale due punti di crescita in più per il triennio prossimo queste dunque anche le notizie riportate su quotidiani nazionali noi abbiamo approfondito la cronaca regionale ma ritroverete l'informazione sulla nuova tv alle 10 con il nostro TG Flash e poi a seguire tutti gli altri appuntamenti dedicati alla cronaca regionale e si chiude qui prima notizia grazie per la cortese attenzione a tutti voi un buon proseguimento di giornata e un buon weekend grazie a tutti Grazie.